Signor, credo finalmente di aver capito, grazie a lei, la differenza che passa fra un regista e un produttore. Ma, dei due, chi sceglie la protagonista? Ah, quello che ci va a letto. Ah, Vicario, le posso presentare il nostro grande produttore, il signor Martin & Fenn? Da lui potrà sapere tutto quello che le interessa. Cosa vuole che le spieghi, caro amico? Mi parli un po' della sua ulcera, signor Martin & Fenn? Cosa?